Ciao ragazzi, sono il dottor Oloké, io devo vedere come si fa a piantare il fatto nostro qua a Zenda. Buon, andiamo, vieni con me. Questa è inestata già però, è inestata? Questa è inestata, e qua arriva pianta qua, guarda, perché qua arriva pianta, questa è savatico però, questa pianta chiama arancio, taraco, rosso, l'ho visto? Qua è scritto, qua pure, però qua già non è fatto inestata, è questa, tutti i pianti 140, taraco rosso, ho visto, questa, guarda questa pianta, questa, questa qui non è pianta, Questa qui era pianta, perché questo occhio esce di qua, perché qua è savatico, qua, dove, qua, questa è pianta, quando arrivo occhio di qua, come questa, come questa, è chiamata pianta, questa non è planta, non è pianta. Questa è pianta, questa è pianta, questa è pianta, guarda, questa è pianta, così devi fare tutto, tutto, questa qua, questa è rammoto, guarda, guarda bene, io cacciavo, guarda bene, è rammoto, qua, questa non vivo più, questa cosa deve cambiare, guarda, guarda, qui, guarda, anche questa, qui, anche questa è savatico, lo'! Ho visto? Sapete fare tagliare, poi rende, qua, questo è pianta, vedete好不好, ci vedete, guardate, ora, qui, questo è per Ник uteri, questo neanche,alities, questo è chiaro, abbiamo capito, io cacciare quelli savatico cacciare savatico poi lasciare le piante che troppo savatico qua come questa pure savatico questa chiama gambalette perché metti questa gambalette quando metti di seba quando metti di seba per fare di seba sopra il vaso qua quando fare di seba con tubo quando metti gambalette poi di seba pure rama presto di seba poi pianta a morire per quelli metti gambalette hai capito questa era savatico sai togliere pure questa togliere questa è la pianta perché esci dove è pianta questa è pianta hai capito quando esci dove è pianta qua guarda bene guardami bene questa è un estato è un estato qua guarda qua esci le piante di qua e questa è pianta quando esci qua è savatico ho visto ma è così tutti questa prende acqua di qua perché acqua c'è buco qua così fare ho visto tutti devi fare ora questa qua è savatico sai togliere cacci casa gabalette di nuovo guarda pianta arrivo già pianta ho visto tutti così qua è cambiato le pianta qua è cambiato le pianta qua è l'ultimo taraco rosso questa savatico sa togliere questa altro pianta perché guarda spazio è fatto noi perché quando svendere pianta ho visto così tu lo sai già è separato perché pure ticket c'è con ticket pure capisci però quando metti spazio così meglio quando altra persona viene per vendere altro appraio altro capo perché sono tanti capo ca ho visto questa altro pianta questa chiama new hall new hall guarda qua è scritto qua bene new hall è stato 23 marzo 21 quest'anno è fatto ha visto questa pianta è asciuta tutti sta crescendo l'ho visto è cresce già cresce solo questa moto questa moto però di ram ancora non moto guarda ram ancora vivo noi sapevo lasciare questa ram per nastare altre pianta sopra puoi tagliare qua di nuovo puoi nastare di nuovo di qua e questi questa stemma ancora vivo ancora buono solo di pianta non presto bene pianta capito guarda tutti metesi guarda qua vieni e uno spazio vieni che ici vieni con me guarda vieni con me guarda 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 che qua non ne stare qua ancora non ne stato dopo ne stare qua 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 guarda vieni guarda 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 così cosa vuoi controllare tutte le pianta e poi io lo sai per quale è vivo e quale non è vivo, mettere con scimmia, pulire l'erba, fare tutto, quale non è vivo, non è stare di nuovo, oppure quando non è stare di nuovo, è morto, puoi cacciare. Grazie a tutti, grazie a tutti, ciao a tutti. A mio frio la.